Un calendario fitto di appuntamenti l'estate di Francavilla, vedrà davvero tanti eventi, sindaco, musica, teatro, cultura, sport? Un calendario davvero fitto, oggi sono contenta di presentare il primo calendario della stagione estiva in cui io sono sindaco per la prima volta. Dopo i primi mesi di programmazione e pianificazione oggi presentiamo questo calendario, stiamo per approvare il bilancio che è l'anima dell'amministrazione e sarà caratterizzato da investimenti nelle politiche sociali, nelle manutenzioni, nei lavori pubblici ma ovviamente anche per turismo e cultura perché Francavilla è una città a vocazione turistica quindi c'è un calendario davvero molto ricco. Quest'anno si torna nelle piazze, il Blue Bar tornerà in piazza, le feste di Sant'Alfonso, il Cenacolo dei Sapori, il Macondo Festival, il premio Michetti e tanto tanto altro. Credo che ci sono due o tre eventi che vorrei ricordare perché innanzitutto abbiamo inserito un programma straordinario che avrà il nome di Francavilla Life, si tratta di una proposta di oltre 120 esperienze itinerari da percorrere a piedi, in bicicletta, con il Segway oppure anche in treno per andare nelle località vicine proprio perché verrà proposto negli hotel, nelle strutture ricettive, in tutte le attività commerciali, nei ristoranti per far sì che i turisti ma anche i cittadini conoscano le nostre straordinarie colline, il nostro patrimonio artistico e le nostre tradizioni enogastronomiche. Quindi saranno dei percorsi e delle esperienze da proporre a turisti e residenti. Credo che questa sarà una proposta che caratterizzerà quest'estate. Ci sarà poi lo Shockwave Festival che è un'arena sul mare di oltre 7.000 metri quadrati, sul lungomare Francesco Palotossi, sulla spiaggia, che vedrà quattro serate con Tommaso Paradiso, i pinguini tattici nucleari, Coetz, Ariete, quindi ce n'è davvero per tutti i gusti. Tornano poi gli appuntamenti tradizionali come i fuochi a mare, come il Blue Bar, Filosofia a mare, avremo un festival delle letterature e delle narrazioni in cui avremo una serata che vedrà come ospiti finalisti del Premio Strega. Insomma davvero c'è un programma ricco, ricchissimo, anche grazie alle associazioni culturali che operano nella nostra città.